un minuto compadre pio da questo luogo particolare significativo che voi forse non conoscete perché non avete avuto modo di entrare in convento siamo proprio accanto al refettorio antico questo è il fuoco comune dove qui nei primi anni era il luogo dove c'era un bracere era l'unico luogo più caldo accanto al refettorio i frati venivano qui attorno al bracere si riscaldavano e poi andavano a dormire quindi si raccontavano la loro giornata perché qui perché qui padre pio ha avuto modo anche di incrociare alcune anime del purgatorio e ha avuto modo anche di pregare per loro ecco ma non vogliamo raccontarvi questo episodio vogliamo raccontarvi un altro episodio che lo riporta padre francesco napolitano è un episodio abbastanza particolare che riguarda un certo fra pietro che è un fratello non chierico che dimorava in questo convento con la fraternità con padre pio era il 1945 fra pietro c'era l'usanza prima di svegliarsi a mezzanotte per recitare le preghiere quindi suonata la campana tutti in coro a pregare ecco una volta che è tornato in cella fra pietro si accorge che nella sua cella c'era un frate inginocchiato davanti al suo letto che pregava al che fra pietro come aprì la porta potete immaginare insomma impaurito disse subito ma chi sei cioè spaventato anche da questa situazione perché comunque era notte fonda la risposta che ebbe fu lo sguardo di questo frate e poi scomparve anche fra pietro non solo la paura della notte la paura di aver trovato una persona che non conosceva nella stanza ma poi questa persona che scompare allora unico punto di riferimento in convento in quel momento era padre pio allora fra pietro corre fa una lunga corsa dalla sua stanza alla cella di padre pio che era chiuso a fare più si era appena rimesso a letto entra entra impaurito dice padre pio padre pio nella nella mia stanza ho trovato un frate un frate che pregava poi a un certo punto questo frate è scomparso cosa devo fare che cosa è successo io non riuscirò a dormire questa notte e subito padre pio con molta calma gli dice fra pietro stai tranquillo si tratta di un frate novizio che ha scelto quella stanza perché quella era la sua cella è un'anima del purgatorio e tu non fare altro che raccomandarla a dio pregare per lui e vedrai che lui potrà prendere la strada per il paradiso e così non ti spaventerà più tu stai tranquillo al che fra pietro con molta titubanza ritorna nella sua stanza che era vuota e comincia a pregare per questo frate novizio il problema è stato successivo quello se lui poi è riuscito a dormire quella notte sul consiglio di padre pio grazie a tutti